Benvenuti al Tg10, c'è la pagina della cronaca giudiziaria in apertura del telegiornale, vi riferiamo della chiusura del cerchio in merito all'operazione antidroga Samarkand, è stato arrestato l'ultimo soggetto sfuggito martedì scorso alla cattura, è stato bloccato all'aeroporto di Comiso dopo essere arrivato dalla Germania. Si chiude il cerchio attorno al blitz Samarkand, operato dalla polizia di Gela di Niscemi lo scorso 14 giugno, l'ultimo tassello mancante è stato bloccato all'aeroporto di Comiso, si tratta di Emanuele Giovanni Di Stefano, 44 anni, sfuggito al blitz perché si trovava in Germania, gli agenti lo hanno ammalettato subito dopo essere sceso dall'aereo che proveniva da Dortmund, adesso è in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria competente. Di Stefano è accusato di essere l'alterego di Emanuele Brancato, ritenuto il capo dell'organizzazione criminale dedito al confezionamento e al taglio di cocaina. Come si ricorderà nell'ambito dell'operazione di martedì scorso, sono stati arrestati anche Giovanni Simone Alario, Diego e Giovanni Nastasi. Il gruppo per mesi è stato pedinato e intercettato dagli investigatori. Nell'ambito del blitz furono sequestrati anche diversi beni nella disponibilità di Emanuele Brancato, volto sconosciuto nel panorama giudiziario e soprannominato Jimmy per la sua pressanza fisica. Sotto chiave finirono beni mobili tra i quali auto, polizze vita e conti correnti. In quell'occasione a Gela fu la prima volta che venne disposto il sequestro preventivo dei beni nei confronti di un indagato per stupefacenti. Brancato utilizzava schede telefoniche sospette intestate ad uno degli indagati. Inoltre, secondo quanto scoperto dalla polizia, lo stesso Brancato aveva installato apparecchiature atte ad impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche ai danni di uno pubblico ufficiale che stava esercitando le sue funzioni. Secondo quanto ricostruito dall'inchiesta, la droga, soprattutto cocaina, veniva acquistata in Calabria e poi rivenduta nelle piazze di Gela. In gente, il giro d'affari scoperto. Sarà firmata domani alle 19 nei locali del Club Vela sul Longomare Federico II di Svevia a Gela la Convenzione al fine di esprimere la propria volontà sulla donazione di organi e tessuti e infatti volontà del Comune assumere e sostenere iniziative volte a favorire l'informazione e la promozione della donazione di organi finalizzata al trapianto come atto di grande civiltà in grado di salvare vite umane. Il Comune di Gela, abilitato dal Centro Regionale Trapianti, sarà infatti inserito nell'elenco dei comuni virtuosi siciliani e potrà raccogliere i consensi all'atto dell'emissione o del rinnovo della carta di identità. Domani interverranno il Sindaco Domenico Mersinese, Bruna Piazza, coordinatrice Centro Regionale Trapianti e Lucio Antona, direttore sanitario di rianimazione e terapia intensiva e coordinatore locale dell'ASP per la donazione e i trapianti. Saranno presenti anche i responsabili delle associazioni ADMO, ADAS e ADOCES. Modererà i lavori la giornalista Fabiola Polara. Giorni addietro, durante i due servizi del nostro telegiornale, ci siamo occupati del porto turistico di Marina di Cara dal Sole, a Licata, un vero e proprio punto di arrivo per chi attraversa il Mediterraneo. 1.500 posti barca, servizi di eccellenza, aree commerciali, intrattenimento. Tutto grazie all'impegno e alla costanza di un imprenditore nisseno, Luigi Geraci. Si prova invidia per chi aggela da anni oramai. Si parla di porto, degli interventi da mettere in campo a seguito dell'inserbimento e non accade nulla, mentre a Licata, distante appena 32 km, mezz'ora di strada, è stato compiuto un vero e proprio miracolo. Giorni addietro, proprio al porto turistico, è giunta un'imbarcazione di quasi 70 metri, un gioiello del mare, che porta ricchezza al territorio. Ignazio Giudice, segretario generale della CGL, in una nota, sottolinea come i ricchi del pianeta Terra, continuano a scegliere la Sicilia. La nostra terra, un po' bruciata dalla politica e dai delinquenti, ma pur sempre meravigliosa per storia, bellezza, arte e accoglienza, scelgono tra le tante mete il vicino porto di Licata. Contento per Licatesi, meno per il destino che da decenni ha dimenticato Gela, il suo porto, la costa, la sabbia, le bellezze regalate dalla natura e sporcate dalla brutta politica. Un intriso di incapacità, egoismo, insensibilità, inutile chiacchiera a danno dei cittadini giolesi. Non si contano più gli anni e con essi le generazioni che abbiamo sentito parlare del porto, del finanziamento, una volta dalla regione, una volta di Agip o Gieni, una volta di uno facoltoso privato. Nulla, anzi, tanta sabbia, tanta rabbia e indignazione. La politica ha fatto scappare anche i pesci dal porto, oltre che la speranza e i sogni di tanti giolesi. Al porto turistico di Licata arriva pubblicità internazionale, economia per un'intera provincia, tra servizi diretti e indotti e tanto futuro. Penso, chiuso a giudice, che la politica, sarebbe bello un giorno scrivere politica, dovrebbe riflettere, cambiare rotta, fare e parlare meno di firme e finanziamenti in arrivo. Più ne annunciano, più la sabbia diventa alta e estesa. Di turismo si vive, di chiacchiere stiamo per morire. E della vicenda, ne parleremo questa sera durante la trasmissione 10 domande 10 alle 21, perché il nostro ospite è proprio l'imprenditore Luigi Geraci, amministratore unico del porto turistico di Licata Marina di Cala del Sole. Le repliche, lo ricordiamo, sono previste alla mezzanotte e domenica prossima alle 18. E adesso occupiamoci della cerimonia di insediamento del nuovo direttore sanitario alla Procedis di Gela. La pubblica assistenza Procedis di Gela ha un nuovo direttore sanitario. Si tratta del medico chirurgo Roberto Labbiso, primario dell'unità funzionale di chirurgia della clinica Santa Barbara Hospital. L'insediamento è venuto ieri nel corso di una cerimonia. È un incarico importante di grande irresponsabilità, di abnegazione. Io cercherò di mettere a disposizione per conto della pubblica assistenza, la Procedis, la mia esperienza, la mia professionalità e di conseguenza penso di ricavare da loro ulteriori esperienze per crescere, che cresceremo insieme, nel svolgere questo impegno importante per la comunità, per la collettività, in maniera tale da dare un servizio migliore possibile. Il neodirettore sanitario porta avanti il suo nuovo incarico, proseguendo sulla strada tracciata dal fratello Giuseppe, scomparso mese dietro, assieme al figlio, in un tragico incidente aereo. Io subentro a lui nella speranza di portare avanti un servizio di efficienza come lo portava lui e di essere all'ostezza sua. E nel ricordo sono qua soprattutto anche per un ricordo suo. Luca Cattuti è responsabile della pubblica assistenza Procivis. La scelta di Roberto Labbiso ricade su un desiderio da parte di tutti i volontari e soccorritori della struttura che hanno voluto fermemente che fosse proprio Roberto Labbiso a proseguire il progetto che già il fratello dottore Giuseppe Labbiso aveva intrapreso. Ricordo che il medico è stato all'interno della struttura sin dalla Costituzione al 6 dicembre 2002 come direttore sanitario. È stato sempre presente nelle attività, oltre quelle sanitarie, anche quelle di protezione civile. Io ricordo quando metteva a disposizione il proprio aereo per esempio per la campagna antincentio per monitorare il territorio gelese. Tanti eventi che naturalmente hanno lasciato un'impronta intelebile all'interno di questa struttura. Quindi l'augurio a Roberto è quello di non farci mancare, di non farci sentire l'assenza di Giuseppe, ma di essere anche lui qui presente proseguendo questo progetto importante che abbiamo intrapreso già da tempo e che stiamo continuando e lasciando come impronta cittadina. Comunità aperte e solidali per un futuro condiviso è il tema di una tavola rotonda che si terrà a Gela nel cortile di Palazzo Pignatelli domani alle 17 in occasione della giornata mondiale del rifugiato. All'incontro moderato dalla psicologa Stefania Pagano interverranno il Vescovo della Diocese di Piazza Merina, Monsignor Rosario Gisana, Massimo Mille Soli della associazione My Lower che discuterà sulla Convenzione di Ginevra, Giovanni Anna Loro su quali diritti, quale protezione Gaetano Bugiada dell'Ufficio Immigrazione della Questura di Caltanissetta. Il convegno seguirà la passeggiata in bici dal tema a due passi per dire grazie e la raduno è previsto alle 15 nei pressi di Largo San Biagio a Caposoprano. Fonti, lei desidera portare la conoscenza della città a una sua situazione particolare che ritiene poter coinvolgere altri cittadini segnalando dei disservizi come è accaduto già in passato. La cosa più grave secondo me è il discorso che Caltacqua chiude alle 16.30 del venerdì e riapre alle 8.15 del lunedì dopo 63 ore e 45 minuti salvo qualche festivo di venerdì o lunedì. Per cui ci fornisce un bene prezioso, Caltacqua, non vende bene i voluttuari che il profumo invece che comprarlo oggi lo compro fra tre giorni e non cambia granché. Quali sono i disservizi che lei vuole segnalare? Che ha patito, lei ritiene di aver subito? Ho patito i servizi e l'acqua che viene di notte mi ha costretto a cambiare casa in ultima analisi perché in un primo tempo mi si è alzata la pressione perché con i motorini accesi di notte si dormiva male. Dopo quando ho visto che la cosa peggiorava ho dovuto cambiare casa. Del tutto di questa storia ho fatto un'esposta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gela ma non è successo niente. Questo è quello che succedeva in passato, adesso invece che disservizi registra? Il disservizio che ho registrato è questo, che la casa è disabitata, pago normalmente il canone solo che l'acqua non arriva. E allora ho telefonato, ho ritelefonato, sempre negli orari consentiti facendo delle cose, certe volte non rispondono. Dopodiché ho fatto un fax, appena fatto il fax mi hanno risposto che se ero disponibile andare alle 5 e mezzo di mattina per vedere che forse c'era un difetto nel mio impianto. Dicono il difetto nel mio impianto, io non avrei niente in contrario a venire, però alla fine è che manca la pressione. Ancora il condatore è fermo e il serbatoio rimane vuoto. Di tutto, visto che nessuno si smuove niente, ho fatto un esporso alla Procura della Repubblica presso la Corte d'Appello di Caltanissetta, sperando che qualche cosa si muove e ho chiesto al Presidente se si intravedono dei reati, se ci sono dei reati, punire il responsabile o i responsabili, perché la carta del servizio non viene assolutamente osservata. Forse l'unica parte dove viene osservata sono gli aumenti contrattuali che regolarmente arrivano. Un uomo, un prete, una città, 50 anni di ministero sacerdotale a Gela di Monsignore Grazio Alabiso. Si tratta del libro scritto da Gabriella Portalone che sarà presentato domani alle 17.30 nella Chiesa della Rosario, un omaggio della Parrocchia Maria Santissima Assunta in cielo a Monsignor Alabiso in merito al cinquantesimo della sua ordinazione sacerdotale. Saranno presenti, tra gli altri, Stefano Sonmartino, segretario del Consiglio pastorale parrocchiale, Monsignore Rosario Gisana, vescovo di Piazzale Merina, Giuseppe Costa, direttore della libreria editrice vaticana, Monsignor Domenico Mogavero, vescovo di Mazzara del Vallo e Eugenio Guccione dell'Università degli Studi di Palermo modererà gli interventi, Monsignor Rino Ladelfa. Ci fermiamo, linea alla regia per la pubblicità. Seconda parte del telegiornale, anche al Comune di Gela è possibile presentare la domanda per l'erogazione del bonus per la nascita di un figlio. Lo ha reso noto l'assessore comunale ai servizi sociali, Licia Abela. Il contributo monta mille euro e potrà essere concesso in favore dei bambini nati o adottati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016. I modelli dell'istanza sono disponibili nell'ufficio del Segretariato Sociale in Viale Mediterraneo o possono essere scaricati dal sito internet del Comune. Le richieste corredate da alcuni documenti vanno presentate al protocollo generale dell'ente entro il prossimo 15 settembre per i nati nel primo semestre dell'anno, entro il prossimo 15 ottobre per i nati dal 1 luglio al 30 settembre 2016 ed entro il 15 gennaio 2017 per chi nascerà nel corso dell'ultimo trimestre del 2016. L'indicatore della situazione economica equivalente ISEE del nucleo familiare richiedente non deve superare i 3.000 euro. Prefettura, banche e forze dell'ordine, insieme per contrastare e prevenire il fenomeno delle truffe finanziarie. E' con questo intento che attorno al tavolo prefettizio si è costituito il comitato di coordinamento per la prevenzione delle truffe finanziarie. Presieduto e coordinato dal prefetto Maria Teresa Cucinotte, composto dai vertici provinciali delle forze dell'ordine e dal rappresentante della Commissione regionale ABI Claudio Passerini, il comitato si prefigge di informare i cittadini, soprattutto gli anziani e soggetti con scarsa educazione finanziaria, attraverso piccoli accorgimenti che è possibile ad esempio consultare sull'apposita sezione del sito internet della prefettura di Caltanissetta e che riguardano più in particolare quali precauzioni occorre adottare quando si preleva contante o si effettuano operazioni allo sportello bancario. Questo comitato ha il compito proprio di tracciare delle linee e di dare delle indicazioni formative e informative affinché ci sia la prevenzione del fenomeno delle truffe che è rivolto prevalentemente agli anziani e a quelle persone che hanno meno familiarità con le tecniche finanziarie. Quindi noi pensiamo di costituire presso il sito della prefettura un apposito link dedicato dove verranno descritti comportamenti virtuosi o dati e indicati alcuni accorgimenti. Una parte importante dell'attività del comitato sarà poi quella formativa che verrà svolta anche con il coinvolgimento delle scuole perché il comitato può essere integrato anche con rappresentanti delle scuole e dell'associazione dei consumatori e noi in un secondo tempo tracceremo le linee guida e poi faremo questi altri incontri a tema dedicati. 20 donazioni e 6 pre-donazioni è il bilancio di una domenica estiva ma non troppo che ha visto i protagonisti soci dello Juventus Club Doc Elkan di Gela trascinati dall'euforia per le vittorie bianconere nella stagione sportiva appena conclusasi un nutrito gruppo di tifosi della Juventus si è dato appuntamento al centro di raccolta fisso di Via dei Pennini 5 a Gela per compiere il loro gesto d'amore disinteressato nei confronti del prossimo un appuntamento che si rinnova e che ancora una volta porta un notevole contributo alla causa dell'ADAS soprattutto alle porte della stagione più calda momento in cui le donazioni di sangue subiscono purtroppo una sensibile diminuzione lo dice il presidente dell'ADAS Enzo Emanuello Promosso da Soloptimist International, FIDAPA, Il Giardino delle Muse e Libreria Randazzo domani a Gela si trarà l'iniziativa a letti di notte con lo Shakespeare Works tra Manchester e Gela parlando di Stratford coinvolti anche gli alunni del liceo classico Eschilo Inizieremo domani pomeriggio alle 4 raccontando Shakespeare ai ragazzi da Randazzo in Via Parioli per poi continuare con un programma molto complesso ricco e articolato è notorio che alcuni sostengono che Shakespeare fosse solo un prestanome e che quindi le opere le avesse scritte qualcun altro che perché le opere dimostrano che l'autore era di grande cultura e le notizie che abbiamo di Shakespeare ci dicono che molto probabilmente dovette interrompere molto presto, 11-12 anni, la sua istruzione quindi fino ai primi del Novecento i candidati erano tutti inglesi dai primi del Novecento e soprattutto poi alla fine del Novecento ci sono state avanzate due candidature di due italiani uno di questi due italiani è siciliano di Messina quindi noi dibatteremo questo argomento io insieme ai miei compagni della Seconda B del Liceo Classico abbiamo voluto intrattenere bambini raccontando la favola per eccellenza di Shakespeare quindi sogno di una notte di mezz'estate proprio ai bambini dunque abbiamo adattato i testi abbiamo creato una scenografia che potrebbe intrattenere bambini e vogliamo appunto estillare l'interesse per la cultura anche ai nostri piccoli amici una notizia di sport in vista della prossima stagione sportiva la società Gela Calcio sta organizzando uno stage riservato ai giovani calciatori nati nel 1996, 97 e 98 lo stage si svolgerà giovedì 23 giugno alle 17 presso lo stadio Vincenzo Presti gli interessati dovranno preventivamente contattare il direttore sportivo del club Giovanni Martello al seguente numero telefonico 339 48 39 012 lo ripetiamo 339 48 39 012 dovranno inoltre essere muniti obbligatoriamente di certificato medico di idoneità fisica e della nulla osta della società di appartenenza teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela tutti gli spettacoli si terranno all'aperto si comincia venerdì 24 giugno alle 21.30 con Attenti a quei due della compagnia Antidoto la rassegna si concluderà a settembre l'ingresso è di 5 euro a coppia prevista nel cartellone anche l'esibizione di Giobbe Covatta abbiamo concluso anche per oggi grazie per averci seguito appuntamento alle prossime edizioni grazie per averci seguito